Questo progetto rappresenta un passaggio molto innovativo rispetto alle misure più tradizionali di finanza agevolata. Un intervento importante della mano pubblica in un momento in cui l'accesso al credito è molto complesso che determina quindi un interessamento diretto da parte della Regione per il tramite della finanziaria regionale al finanziamento delle imprese neocostituite. Facciamo riferimento alle imprese con meno di 48 mesi di vita o alle imprese costituite proprio in questi giorni quindi in prossimità della presentazione della domanda che potranno quindi beneficiare di un finanziamento che andrà a coprire la totalità dell'investimento quindi non è richiesto il co-finanziamento da parte del soggetto preponente dell'investimento e questo 100% sarà così composto. L'80% a tasso zero da restituire in 5 anni massimo 72 mesi con un periodo di preammortamento di 12 mesi e un 20% a fondo perduto. Estremamente importante sottolineare il fatto che questa misura va a finanziare anche il circolante cioè non solo l'investimento, non solo quindi l'acquisto di beni, attrezzature o cose di questo tipo ma anche la mera liquidità, finalizzata quindi all'acquisto di merci, finalizzata quindi all'appagamento di locazioni finalizzata al pagamento dei fornitori in genere ed anche alla mera e più semplice liquidità. È una strategia importante, sono risorse di oltre 3 milioni ma siccome a settembre potremo avere l'anticipo sulla programmazione 2021-2007 contiamo di portare questo investimento a oltre 9 milioni di euro. Credo che sia una iniezione di fiducia e soprattutto di liquidità che viene messa a disposizione del tessuto imprenditoriale. Ci vuole un investimento dimostrabile che superi i 50 mila euro si ha la possibilità di avere l'80% a tasso agevolato, a tasso zero, il 20% a fondo perduto. Quindi credo che sia una iniezione importante per quelle aziende che credono nel proprio sviluppo.